Buongiorno a tutti e buon San Zenoni a tutti i parrocchiani. In occasione di questa festa Massimo Cogliati ed io abbiamo deciso di farvi un regalo. Oggi è stata celebrata la messa solenne dentro San Zeno e come ogni anno, anche in circostanze del tutto eccezionali, il parroco Don Giancarlo ha bruciato il pallone di San Zeno sopra l'altare all'inizio della messa. Questo è un rito che sembra così un pochino banale, qualcuno si chiede ma perché dobbiamo bruciare un pallone per San Zenoni. Prendo spunto da un articolo scritto da Marco Mauri e pubblicato su Archivi di Lecco nel 1987 per spiegarvi un po' questa tradizione. Innanzitutto quello non è un pallone ma viene chiamato faro o anche corona, ma è il faro. È un simbolo quindi di luce e risale ai tempi di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, il fondatore del rito ambrosiano, c'era già qualcosa anche prima di Sant'Ambrogio, si è sviluppato anche dopo Sant'Ambrogio, ma è chiaro che Sant'Ambrogio è stato il principale autore di quello che oggi noi chiamiamo rito ambrosiano, anche se è poi stato modificato durante i secoli. Era un grande cacciatore di martiri, cioè amava i martiri. Perché? Perché i martiri rendevano concreta l'aspirazione del cristiano al paradiso. Il martire aveva carne e ossa, era possibile andare in una chiesa, in una tomba, vederlo, vederne le ossa, vedere quindi il corpo e capire che essere santi non era un qualcosa così, campato per aria, ma era un reale, una persona come noi che ha vissuto bene e ha meritato il paradiso. Quindi è un qualcosa alla portata di tutti. Il culto dei martiri aveva questo aspetto, un aspetto di tipo educativo, no? per Sant'Ambrogio. E prendo spunto da un libro scritto da Monsignor Borella, con questa citazione che ricostruisce quello che avveniva proprio ai tempi, nell'Alto Medio Rivo, ai tempi di Sant'Ambrogio e appena dopo. Nelle feste dei Santi più solenni, tutto il clero metropolitano con l'Arcivesco si recava processionalmente alla chiesa del titolare del Marti, e questo durante le feste patronali. E per i Vesperi e per la Messa. La processione per la Messa partiva dalla cattedrale, al canto del San Lenzio, e nella chiesa il clero si preparava in sacristia. Indi si recava all'altare, al canto del Salmo antifonale, e in processione non si portavano i candelieri, ma una croce con delle candele poste sopra le braccia della croce. Quando la processione giungeva all'ingresso del presbiterio, quindi vicino all'altare, con la candela posta sulla sommità della croce si accendeva il faro, quindi il pallone. Sopra di essa si collocava un anello di bambagia, a cui veniva dato il fuoco, e che accendeva le singole lampade. Ora, poi l'uso si è trasformato, tra questo è diventato un globo di bambagia che viene bruciato dal celebrante, normalmente con tre candeline, a volte con uno. Tre candeline di solito ha significare la Trinità. Che cos'è quindi questo pallone che brucia? Il faro è simbolo della luce di Cristo, che illumina la Chiesa all'inizio della Messa, qualche parrocchio la fa anche dopo la Messa, ma è molto raro, e è simbolo del martire stesso. Il martire che avvampa, che brucia per l'amore di Dio, che porta addirittura a sacrificare la propria vita pur di rimanere vicino a Gesù, vicino al Signore. Il rito del faro, perché è un rituale a questo punto, non è semplicemente una tradizione così da portare avanti, ma è diventata una parte del rituale della Messa del Santo Titolare, è caratteristico della diocese ambrosiana, della rita ambrosiana, e dove questo rito veniva applicato fino a pochi decenni o secoli fa attorno a Milano, attorno alla diocese. Per esempio, se andate in provincia di Bergamo, a Cisano, a Caprino, che facevano parte della diocese di Milano fino alla fine dell'Ottocento, lì si usa ancora bruciare il faro. E poi, caratteristico delle chiese che sono titolari di un santo martire. Ora, San Zeno è un po' strano, perché non è un vero martire, non è stato ucciso, però è considerato martire, questo dalla biografia dei Santi, perché ha consumato tutto se stesso nell'amore verso Gesù, anche senza essere stato martirizzato nel senso classico del termine, ha rinunciato tutto se stesso martirizzandosi in vita, e per questo viene chiamato martire. E tutte le parrocchie che sono titolari di un santo martire hanno un pallone, bruciano il pallone. Quindi non siamo gli unici a San Zeno. La cosa interessante è che io da piccolo pensavo di essere l'unica parrocchia che bruciava un pallone, noi bruciavamo il pallone a San Zeno, poi scoprendo che in realtà lo bruciano quasi tutti. Questo vale anche al Duomo di Milano, la prima foto che avete visto in questo video era il pallone di Santa Tecla, santo titolare, martire, cotitolare del Duomo di Milano, ed è una caratteristica puramente ambrosiana. Non tutte le parrocchie oggi bruciano il pallone, ma quasi tutte. Marco Mauri ha calcolato circa il 20% delle parrocchie che non bruciano più il pallone, però in questi anni qualcuno è ritornato a bruciare di nuovo il faro. Questi palloni poi erano particolari. Innanzitutto sono bianchi, qualcuno è rosso, simbolo del sangue, ma quasi sempre sono bianchi, e poi sono abbelliti. C'è chi lo lascia bianco, chi ci mette delle stelle rosse come noi, chi mette dei fiori, chi ci mette dentro dell'alloro che bruciando fa rumore di crepitivo, c'è chi mette dentro dell'incenso, c'è chi fa un fiocco. Insomma, piccolo accorgimento, ma ogni parrocchia ha il suo modo di farlo e rimane costante nel tempo, difficilmente cambia. Alcune volte si mettono per esempio dei fiori, dei grandi fiori sopra il pallone. Sono cose molto... ogni parrocchia lo fa e c'è di solito anche una famiglia titolare che sono trovando di generazione in generazione. Nel nostro caso è la famiglia Burini, che come ogni anno, anche quest'anno, ci ha donato questo pallone. Generalmente è la famiglia del sacrista, che porta avanti questa tradizione. Ci sono poi altre caratteristiche, per esempio Barzanò hanno una striscia rossa all'equatore del globo. Per esempio Barney producono del fumo colorato. A Careno si brucia alla fine della messa e non all'inizio. Per esempio ci sono alcune... a Casletto usano per esempio delle strisce. A Casa Tenovo ci sono dei dischetti. Insomma, ogni paese c'è il suo. Ovviamente, essendo una civiltà contadina, la nostra si traevano auspici. Ai tempi la gente guardava con attenzione, come dice Marco Mauri, la fiammata perché il pallone deve incendiarsi subito, non deve incendiarsi... cioè si deve incendiare ma bruciare lentamente. Tutto, 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 tutto. E se non bruciava, tardava a prendere fuoco, o non si bruciavano tutti i disegni, tutti i fiocchi, poteva andare male l'anno. Quindi, vedete che c'è una grande tradizione dietro. Vi ringraziamo, vi ringrazio di questo se ci avete ascoltato. E speriamo che buon San Zeno a tutti i parrocchiani. Da Lorenzo e da Massimo. Grazie. 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 Grazie.